E' in nome del Padre, del Figlio, del Spirito Santo, salutato Gesù Cristo. Cari fedeli, oggi abbiamo questa domenica, gaudete, gioite nel Signore sempre, di nuovo ve lo dico, gioite. Sappiamo che l'uomo è stato creato per la somma gioia e ogni uomo in qualche modo cerca questa gioia. Purtroppo col peccato originale tutti hanno tendenza a cercarla dove non c'è e anche non può essere. Santo Agostino dava questo consiglio, se vuoi essere felice, ama di più ciò che Dio promette che ciò che promette questo mondo e temi di più ciò che Dio minaccia che è ciò che minaccia questo mondo. Allora, vorrei considerare con voi un altro passo di San Giovanni, sempre lo stesso Vangelo, capitolo 3, un'altra scena di San Giovanni Battista che è meno conosciuta perché non si trova nel messale. La scena è questa, imposto la scena. A questo punto Gesù è venuto da San Giovanni che predicava davanti a queste folle di persone e battizzava. Ha battizzato Gesù, Gesù si è allontanato e poi Gesù dopo il suo digiuno si è messo a predicare e fare battizzare anche lui e poco a poco le persone lasciavano San Giovanni e andavano ad ascoltare Gesù. Quindi potete immaginare un po' l'eseggiamento dei suoi discepoli sempre meno gente torna a San Giovanni e sempre più gente che va verso Gesù. Allora, cito, nacque allora una discussione fra discepoli di Giovanni andarono perciò da Giovanni e gli dissero Rabbi, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai reso testimonianza ecco sta battizzando e tutti accorrono a lui sottointeso cosa facciamo, c'è un problema la gente ti lascia vanno da Gesù interessante la risposta Giovanni rispose nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stato dato dal cielo voi stessi mi siete testimoni che ho detto non sono io il Cristo ma io sono stato mandato innanzi a lui poi prosegue chi possiede la sposa e lo sposo ma l'amico dello sposo che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo ora questa mia gioia è compiuta egli deve crescere ed io invece devo diminuire questa virtù eroica di San Giovanni Battista allora ci sono due vizi in particolare che allontanano e anche rovinano la gioia questi vizi sono la superbia e l'invidia la superbia fa cercare la propria eccellenza e il suo contrario è l'umiltà ora San Giovanni Battista era il più importante fra tutti i profeti della tribù sacerdotale per indicare il Cristo figlio nato in modo miracoloso ascoltato da tanti anche dal re ma in lui c'è l'umiltà l'umiltà vive la verità io non sono il Cristo non sono così importante attenzione e poi compie e si rallegra dalla volontà di Dio io sono stato mandato innanzi a lui ho il compito lo faccio e mi è contento di quello niente di più l'altro vizio è l'invidia cos'è l'invidia? l'invidia in generale è la tristezza che ci viene quando il bene arriva a qualcun altro abbiamo tutti conosciuto l'invidia fin dalla nostra fanciulezza quando davano le caramelle e un bambino voleva la caramella la fragola e quella caramella viene data a un altro bambino e fa il muso ma io volevo la caramella la fragola o i giocatori io volevo con il giocatolo blu e poi fa il muso perché l'altro ha avuto quello che lui voleva questo fin dall'infanzia è il vizio dell'invidia che può capitare a tutte le età e per tante cose anche la salute lui ha avuto la salute io no lui ha avuto la promozione io no lei ha avuto il premio io no e quindi possiamo tutti sentire questa invidia quel Gesù che è battezzato ecco che sta battezzando e tutti accorrono a lui il tuo bene sta passando a Gesù non senti l'invidia Giovanni? la risposta di San Giovanni ben venga ben venga che sia così perché io lui deve crescere e io devo diminuire l'atteggiamento molto cristiano questa virtù di umiltà e si può dire che la virtù contraria all'invidia è la gioia per il bene altrui lui ha qualcosa e sono contento per lui lei ha avuto proprio quello che volevo io però lei ce l'ha e sono contento per lei che umiltà che umiltà nel volere solo la gloria di Gesù Cristo e considerarsi solo un aiuto un mezzo interessante notare come San Giovanni chiama Gesù lo sposo lo sposo perché in Gesù Cristo è vero che si sono sposate due nature la natura divina la natura umana Gesù è lo sposo ma chi è la sposa di Gesù Cristo? la sposa di Gesù è la chiesa che lui genererà sulla croce sposa di Cristo e la chiesa questo sarebbe un esempio tipico in cui ci potrebbe essere dell'invidia immaginiamo un uomo che si sposa con una donna meravigliosa con tutte le qualità tutte le virtù e senza altro qualcun altro voleva sposarsi con lei e quindi quando lui si sposa con lei questo può provocare dell'invidia forse anche dell'amico dello sposo invece questa figura che prende San Giovanni io sono l'amico dello sposo chi possiede la sposa e lo sposo ma l'amico dello sposo che sono io che è presente e l'ascolta esulta di gioia alla voce dello sposo ora ora questa mia gioia è compiuta la figura della virtù cristiana davanti al bene altrui il contrario dell'invidia è l'amico dello sposo che si ralegra per l'amico per il suo matrimonio cari fedeli possiamo capire sia il vizio sia questa virtù è importante per noi se vogliamo essere nella gioia dobbiamo lottare contro l'orgoglio e contro l'invidia gaudete gaudiamo l'orgoglioso e l'invidioso non possono essere felici cercano sempre qualcosa che non hanno o sono tristi perché qualcuno ha qualcosa che loro non hanno e con la religione di Gesù Cristo abbiamo tutto quanto occorre per ottenere la beatitudine eterna ma anche la gioia in questa vita la virtù cristiana produce la gioia anche della povertà anche delle difficoltà anche delle malattie e se sentiamo dentro di noi una tristezza un'amarezza la crupezza dell'anima facciamo piuttosto un esame di coscienza perché abbiamo tendenza a cercare fuori dove è la causa della mia tristezza qualcuno qualcuno mi ha fatto qualcosa di male anziché cercare dentro eravamo convinti che la causa veniva da fuori ma molto probabilmente se non abbiamo la gioia la causa è dentro di noi l'ostacolo è dentro di noi invitiamo l'umiltà del cuore del sangio venire batista per condividere la sua gioia per l'arrivo del messia perché liberati dalle catene dell'orgoglio e dell'invidia anche la nostra gioia sia piena in nome del padre e del figlio e del spirito e del santo sia lo dato Gesù Cristo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti